Sto incentrando l'attenzione sulle periferie. Mi trovo oggi a Tramontone in via Gregorio VII e mi vado proprio a verificare di persona una situazione davvero incredibile. Vi è infatti un dosso che vedete qui, si vede proprio la struttura, la protuberanza, passatemi questa espressione, e il dosso non è segnalato. Sapete tutti che ai sensi del codice della strada i dossi devono essere segnalati con un particolare colore giallo e nero della segnaletica orizzontale. E qui, guardate, è ingannevole perché la macchina passa, non riesce a riconoscere la presenza, non riesce ad avvertire, a rendersi conto della presenza del dosso. E poi i danni che l'automobile riporta, penso ai semiassi, ma penso anche ai danni che possono crearsi in situazioni ben più gravi. Penso per esempio ad un'ambulanza e quindi alla lettiga dell'ambulanza e al paziente che si trova su quella lettiga. Immaginate un po', non ci si rende conto, non ci si avverte della presenza del dosso, l'ambulanza sobbalza, la lettiga sobbalza e il povero ammalato, immaginate se ha magari una frattura ad una gamba, se ha una frattura alla schiena, cosa succede? Non basta aver messo qui il cartello passaggio pedonale rialzato perché, signori, gli automobilisti devono visualizzare con gli occhi, con la vista, devono visualizzare la presenza. Non è sufficiente il semplice cartello, non è sufficiente. Invece un colore, quello prescritto dal codice della strada, un giallo forte, intenso, ti fa capire che lì c'è questo benedetto dosso. Ma scusate, un'amministrazione comunale che sperpera da non lo pubblico, 7 milioni e mezzo di euro, ma scusate, un po' di vernice gialla e nera, ma anche gialla soltanto, visto che l'asfalto già è scuro, costa tanto? Guardate, c'era l'indicazione giallognola, ma questa risale forse a decenni fa e si è completamente scolorita, non esiste più, è diventato tutto scuro. Guardate, allora magari chi conosce per abitudine, perché abita da queste parti e sa della presenza del dosso, si salva, tra virgolette. Chi invece la strada non la conosce, come tante persone, perché non tutti camminano ogni giorno su via Gregorio VII, si trova la brutta sorpresa. E' mai possibile questo? Ecco che io dico che è un'amministrazione comunale che non gira la città, non ascolta, eppure ci sono tanti consiglieri comunali che sono stati eletti in questa zona, in queste zone. Penso ai vari Enzo Di Gregorio, penso a Lucio Lonoce, conoscono quest'area, per citarne alcuni, ma nulla di personale, per carità, bravissime persone. Però, scusate, ci si perde in un bicchiere d'acqua? E' mai possibile? Che qui abbiamo un dosso, con tutti i nessi e connessi, con la pericolosità dei dossi, e il dosso non viene segnalato. Peraltro, un dosso, bisognerebbe vedere anche fino a che punto il dosso risponde ai parametri prescritti e imposti dal codice stradale, perché non basta buttare un po' di asfalto per creare il dosso, ma al di là di questo, almeno che vi fosse la segnaletica. Queste benedette strisce gialle, comandante della Polizia Municipale, assessore alla Polizia Municipale Ciraci, comandante Matichecchia, sindaco Melucci, è così difficile? O devo venire io davvero e dipingere di giallo? Vedete che io sono capace, lo dico e lo faccio. Grazie a tutti.